Posso definirti genio? È troppo? Dai, posso definirti un genio? Non mi chiamo Gino, mi chiamo Genius. Vedi, vedi. Un genio è veramente la musica con la M maiuscola, anzi l'arte con la A maiuscola. Tu hai iniziato con la gatta. Sono 50 anni, 60 anni. Ho cominciato con la gatta ma io ho cominciato perché stavo cantando per la Ricordi, delle canzoni che scrivevano e mi avevano preso come cantante. Io continuavo a fare il mio mestiere che era quello di grafico, però era una cosa che facevo anche quello ogni tanto, andavo a Milano e ci devo qualche canzone. Poi un giorno per caso, è arrivata a casa e ho detto, potrei anche scrivermene una. Allora con un pianino che aveva a casa mi sono scritto la gatta. La gatta ha avuto un inizio senza infame e senza lode. Credo, Nanni diceva che aveva venduto 80 copie. Considerando mia mamma e i miei fratelli, deve darsi che fossero quelli. Solo che allora c'erano i jukebox e praticamente l'estate è passata che la gatta era sempre sui jukebox, fissa. Io non mi muovevo da nessuna parte senza sentire sta gatta nei jukebox. E alla fine dell'estate, tutti se lo sono andato a comprare, è scoppiata, è andata in classifica, quelle robe lì, insomma, che io non l'ho mai preso in considerazione, però è successo. Quindi mi sono trovato in cinque minuti a fare, che non ho mica presa come una cosa seria io. No, infatti sono rimasto con il mio lavoro di grafico fino al 62-63. Perché non mi fidavo, sì, vabbè, una cosa in più. Poi invece a un certo punto mi è scattato qualcosa, ho detto, ma, in fondo io faccio il pittore, significa esprimersi, esprimersi, si può esprimersi anche, quanto sembra come una canzone, allora vediamo di farlo con la canzone. E allora ho cominciato a farlo seriamente. Sono stato licenziato, cioè, non licenziato, il direttore amministrativo della Sigla F, che era la casa editrice per cui lavoravo come grafico, mi ha chiamato e mi ha detto, sento, quanto vuole per fare una serata? Io credo volevo fare una serata per la ditta, gli ho detto quello che mi sembra fossero 120 mila lire. E lui ha detto, quanto prende qui di stipendio? 60 mila lire al mese. Non le sembra sia il caso di smettere di fare questo mestiere? Lei mi faccia una lettera in cui scrive che, non so come si dice, di quando esci di garanzia, che è tutto bene, eccetera, eccetera, e poi mi dimetto, ok, è così. Quindi con fatica hai capito che l'arte ti apparteneva, perché grafico, poi hai detto che tu dipingi, e io lo so, dipingi e anche molto bene, quindi l'arte, come io ho sempre pensato, come noi abbiamo sempre pensato, ma non solo noi, ma l'arte non è la musica e basta, diciamo che forse la musica arriva a tutti perché non ha bisogno di strumenti che siano un supporto. È facile, perché la musica è astratta, e dato che tu devi esprimere dei concetti astratti, che sono le emozioni, l'emozione è un fatto astratto, e quindi la musica è la più astratta delle arti, e quindi è più facile trasformare l'emozione in musica. Come descriveresti l'emozione, Gino? Eh beh, non è da descrivere, non si può descrivere, è come quando dici, descrivi l'amore, buonanotte, se si potesse descrivere, probabilmente finirebbe, noi uomini siamo attratti da ciò che non capiamo, non da ciò che capiamo, quindi dal mistero, dal non sapere, se no il rapporto tra una donna è soprattutto basato sul fatto che tu non la capirai mai, e quindi sarei sempre curioso. Eppure le canzoni d'amore più belle, in assoluto, le hai proprio scritte, tu sei un poeta, come alcuni, come rari cantautori, sei un poeta. No, la poesia è un'altra cosa, cioè la poesia è senza la musica, forse è più difficile la poesia che non la canzone, perché la canzone, in fondo, la musica è una maniera di identificare delle parole, mentre la poesia non ha nessuna possibilità di identificare, a parte la sensibilità di chi scrive. La musica è in fondo una maniera di definire, di identificare delle parole, le parole sono equivoche, sono ambigue, sono false, perché hanno centomilla significati, e allora la musica cerca in qualche maniera, in effetti ti aiuta a identificare. Del resto basterebbe andare a vedere come nasce la musica. La musica come nasce? Nasce da pochi fonemi e molte modulazioni, cioè il popolo primitivo, ancora ora è così, cioè la stessa parola, a seconda di come la pronuncia, secondo l'accento che ci metti, cioè a seconda di come la moduli, ha un significato o un altro. E quindi inizialmente probabilmente c'erano due o tre fonemi, come nel bambino, ci sono tre fonemi, ma capisci benissimo quando ma che dice è in una maniera o nell'altra, perché a seconda di come la modula, tu capisci se sei allegro, se sei triste, se vuole esprimere una cosa o l'altra. Questo vale, questa è la nascita della musica, secondo me, dalla modulazione, dalla capacità di identificare attraverso la modulazione il significato della parola, della parola, del fonema, di quello che vuoi chiamarlo. Quindi nasce prima la musica e poi le parole? No, beh, ogni parola ha dentro una musica, cioè io non scrivo mai prima la musica, dopo le parole, scrivo una frase che contiene già una modulazione che è poi obbligatoria, perché quella modulazione diventa poi tutto il resto. Non c'è libertà nello scrivere, è una schiavitù che è la massima libertà dell'artista, cioè il modulo ha rispettato, cioè è come un puzzle, ci metti quel pezzo, ci va solo quello. E quindi quando tu scrivi se a me mi dicono come va avanti probabilmente faccio come ha fatto Wagner, perché dentro quella modulazione lì c'è già tutto, devi solo seguire quello che quella modulazione ti impone. La schiavitù del modulo è la massima libertà dell'artista, quindi è una cosa molto difficile da spiegare, però è così. Ma lo studio Gino serve? C'è una base di studio, una base forte? Lo studio per tutti è qualcosa che si deve imparare fino alla morte e poi dimenticarselo completamente. Cioè il... Quando... Faccio un esempio, se tu vuoi parlare inglese, finché tu prenderai quello che in italiano lo traduci in inglese e parli inglese non sai l'inglese e non lo parlerai mai bene. Quando penserai in inglese allora riuscirai a parlare inglese. E la stessa cosa è per le altre cose, per la musica. Quando tu non c'è più nessuna difficoltà tecnica per trasformare quello che hai dentro in musica e parole, allora puoi farlo, puoi dimenticarti completamente di quello che hai imparato, niente, la tecnica non serve più, non è più niente. Cioè... Pollini quando suona con Chopin non pensa mica alla tecnica, pensa... Gli va... È come... È un'emanazione, è come far pipì. Infatti uno degli insegnamenti più grossi me l'ha data appunto questo gestista americano che si chiamava Lester Young che sono andato a trovare quando avevo 16-17 anni. Che io alla mia richiesta «What is possible? In your mind, in your mind, this mood, what do you think about? Play jazz like a pissoff» ha detto. Suonare il jazz è come pisciare. Cioè è un bisogno e non puoi farne a meno. E deve venire fuori così, senza nessuna difficoltà. È quello che probabilmente forse si chiama anche talento, che non si può prescindere da quello perché... Il talento esiste, il talento c'è, sicuramente. Poi c'è il culo, perché probabilmente c'è un sacco di gente che ha talento in giro e non ha avuto culo. Essere nel posto giusto al momento giusto e... E cosa vuol dire? Vuol dire che in fondo uno che ha 80% di talento e 20% di culo è più sfortunato di quello che ha 80% di culo e 20% di talento perché è più facile che venga fuori quello lì. Tu poi so che sei però anche uno scopritore di talenti perché, insomma, nella tua vita hai sempre individuato un po'. Il talento si vede subito. Il talento non è una cosa che ha a che fare con la musica o con il fatto che tu sia cantante o no. è qualche cosa che hai dentro e che... non c'è niente da fare. Lo vedi, lo senti. Lo senti. Una persona che ha talento. Io quando ho visto, quando ho parlato, ho incontrato Lucio. Lucio non è che uno poteva fare cantante. Qualsiasi cosa avesse fatto di artistico sarebbe riuscito a farlo bene perché aveva qualcosa. Il talento cos'è? Però è qualche cosa che si riconosce. Perlomeno che io riconosco. Ecco che tu riconosci. Questa è una cosa importante. Quindi veramente un dialogo fra te e quel qualcosa che riesci a vedere che è magico. Ma tu sei anche una persona che, devo dire, so, si è sempre data tanto nel senso di avere il contatto con la gente, con il pubblico. Hai sempre girato. Hai sempre fatto tantissimi concerti. Veramente tantissimi. Questa è un'altra cosa molto bella. È una cosa che non si può farne a meno. Come fai a fare a meno del rapporto che c'è tra te e il pubblico? Tu non sei mai vero tanto come quando sei finto su un palcoscenico. Non sei mai così vero. Il palcoscenico non è una situazione che tutti assistono. È un coito. Coito con tutti quelli lì che ci hanno davanti. È un ponte che butti tra te e loro. È il momento che ti senti almeno solo del mondo. Fare il concerto soltanto per guadagnare e quindi che sono quelli che fanno un concerto l'anno per fare una marea di gente, eccetera, io non ci riuscirei perché non avrebbe senso. Allora la musica e questo mestiere non è quello che sento ma un mezzo. Io non è un mezzo il mio. ma è un fine. È una voglia di dare e di ricevere a cui non saprei rinunciare. Poi ci sono quelli che la pensano diversamente ma la questione sta sempre lì. Tu perché fai questo mestiere? Perché non puoi farne a meno? Perché hai bisogno di sentirti, di servire agli altri in qualche maniera. e sei felice quando ci riesci. Naturalmente tutte le volte prima di cominciare dare un milione per andarmene non farlo perché mi ricordo tanti anni fa a un feste di Sanremo non mi ricordo quale. Non mi ricordo neanche cosa avevo io però ero con Modugno che bevevamo fuori dal nel nel parterre e bevevamo del whisky perché ci stavamo cagando addosso e allora dico a Mimmo gli ho detto guarda ma tu sei già tanti anni che canti perché lui era già io cominciavo lui e dico come mai te la fai ancora addosso guarda se te la fai addosso te la fai addosso sempre in quel momento passava la gigliola cinquetti bella tranquilla diceva di quella lì non avrà mai il coso e noi sempre aveva ragione è sempre stato così prima di uscire sei teso come un come un violino perché pensi che magari non ci riuscirai non darai il massimo non darai tutto quello che dovresti dare poi vai su e allora bisognerebbe che ti dessero un milione per andare giù perché non ne vuoi sapere di scendere questo è quando gli artisti si danno e hanno appunto questo timore questa paura di farsela addosso però poi arriva secondo me un pezzetto di fegato di polmone arriva qualcosa che arriva da dentro e la gente lo sente perché ti continua a seguire ad amare da tanto so che all'inizio mi ha portato diverse critiche uno per esempio che mi ha criticato era stato Claudio Villa perché diceva sai tu sei sempre serio non sorridi mai quando finisci sorridi allora io dico ma come sorridi tu canti buongiorno tristezza amica della mia malinconia e ti metti a sorridere ma che cazzo sorridi e beh così questo è vero ma allora era così se non so tu non te lo puoi ricordare ma questi cantanti tipo Villa Lapizzi Togliani tutti questi qua erano sempre sorridenti dovevano fare dovevano piacere dovevano accontentare il pubblico certamente una delle rivoluzioni vere anche nel comportamento è stata quella dei cantautori che si presentavano come cacchio erano senza dover sorridere senza compiacere senza accontentare quindi questo è stato in fondo forse la cosa più importante tanto nello scrivere quanto appunto nel comportamento normale insomma perché il resto cioè il fatto che noi siamo stati quelli che hanno cambiato un po' tutta la tutta la baracca non è così importante perché se non c'eravamo noi c'era qualcun altro perché il momento era quello e quindi prima o poi qualcuno avrebbe fatto la stessa cosa però noi abbiamo invece impostato un comportamento un comportamento nello scrivere un comportamento nel muoverci un comportamento nel parlare che era assolutamente non accontentavamo nessuno tutto qua era un comportamento sicuramente innovativo ma molto forte poi la scuola genovese della cantautorato è scuola vera non accontentavamo nessuno infatti ci attaccavano da tutte le parti io mi ricordo uno dei primi dischi che ho fatto mi sembra fosse Sassi che c'era uno che dirigeva non so quale giornale che mi fece un attacco tremendo e diceva ma che vuole questo fai discorsi esistenziali le cose filosofiche con la canzone ma cosa è scemo questo questo era il concetto il concetto era che il cantante doveva essere uno possibilmente come un calciatore deve essere stupido per forza anche loro dopo Rivera eccetera hanno pensato che tutti i calciatori non fossero soltanto gente di piedi ma che c'avessero anche un cervello però allora si pensava così anche dei cantanti è comunque una rivoluzione straordinaria cioè i tuoi amici più più importanti più vicini di questa scuola straordinaria dalle Andrette la scuola straordinaria era fatta di tre persone io Luigi e Bruno tutto qua perché poi c'era Ruggero Coppola che però poi ha fatto l'assicuratore eravamo noi tre perché eravamo amici prima stavamo insieme sempre quindi e poi dopo un anno o due Fabrizio Umberto Umberto aveva cominciato prima però il gruppo un gruppo storico insomma erano questi tre più Giorgio Gaber perché Gaber era a Genova perché suonava in un gruppo ci suonava Luigi e Giorgio e quindi era un po' del gruppo poi insomma giunti però all'inizio erano loro eravamo noi basta che poi appunto la spiegazione di tutta questa storia è la data a Reverberi che ha detto mi sentivo solo ho fatto venire gli amici bella bellissima e poi questi amici e poi tu avete continuato anni regalandoci veramente canzoni emozioni io le chiamo poesie perché come ti dicevo per me alcune sono anche se levo la musica restano poesie però avete regalato anni davvero di straordinario adesso le ultime cose che ho visto e sentito con Danilo Rea un altro grandissimo un altro grandissimo questa voglia di continuare con Danilo un po' più intima è una cosa magica perché adesso cominceranno a parlare perché insomma tra un po' ci sposiamo insomma è una cosa talmente magica perché facciamo lo spettacolo come se avessimo la testa sola con la testa sola cioè io faccio io e lui andiamo in qualsiasi direzione insieme non so come è successo è una cosa talmente straordinaria che finché non si stufa andremo avanti ma è nata per caso come è nata per caso sì è successo che io Rava il trombettista mi chiama anni fa guarda io mi hanno chiesto di fare un concerto con un cantante il mio cantante sei tu perché da giovane solo tu eccetera ti andrebbe io dico sì volentieri abbiamo fatto questo concerto mi sembra Brescia subito ho richiesto altri concerti ne abbiamo fatti diversi poi praticamente Rava ha cominciato a fare altre cose da solo allora è venuto Boltro e poi quell'altro insomma praticamente però il gruppo era Gatto Danilo Bonaccorsi e Boltro e facevamo questi concerti insieme poi un giorno siamo in un teatro tenda e abbiamo finito il repertorio dovevamo andare avanti dovevamo andare avanti e continuavano a chiamarci fuori allora l'impresario Aldo dice andate fuori tu e Danilo e fate delle canzoni io con Danilo basta che dica facciamo Stardust e andiamo cioè senza cioè tanto io quanto la mia lui sa cosa deve fare via per cui siamo andati fuori abbiamo fatto due o tre pezzi tutto bene allora finiamo e Aldo dice si potrebbe provare a fare una cosa tu e Danilo insieme basta possiamo provare con una cosa piccola insomma magari vediamo provare sì va bene allora dice il giorno tot c'è questo la cosa piccola era un teatro tenda con 6.000 persone io e Danilo e basta è andata è andata bene e è andata talmente bene che poi c'è il giro il tamburo no il tamburo segreto che si parlano tutti è finita che stiamo facendo oltretutto io avevo deciso anni fa già appunto al tempi in cui ho pensato appunto di fare il jazz il jazz io ho detto questa cosa mi piace farla l'impresario che va allora dice no ma tu devi prendere no vado al jazz io prendo quello che prendono gli altri cioè quello che è non si può non si può perché giustamente perché se tu vai un posto a 1.000 euro dopo se ne chiedi 20 ti dicono sei scemo sei andato a 1.000 euro adesso viene che a 20 per cui abbiamo mollato con questo impresario che è straordinario una persona onesta pulita eccetera che si chiama Sconocchia e con Aldo che allora era il mio bassista ho detto vabbè adesso noi facciamo solo quello che ci chiedono le tournée non le voglio più fare perché il tournée significa andare anche in posti dove ti vogliono o non ti vogliono dipende dal fatto che devi mettere le date in una certa maniera eccetera allora ho detto no soltanto su richiesta credevo di lavorare di meno no no infatti no e adesso stiamo andando avanti da diversi anni con Danilo ci divertiamo con dei pazzi noi finché ci divertiamo va tutto bene quando ci saremmo rotto le palle sarà finita la cosa abbiamo fatto due tre dischi insieme adesso il mio prossimo che sarà una cosa assurda perché si chiama Canzoni Interrotti mi chiama Canzoni Interrotti perché perché quando eravamo ragazzi io e alcuni altri Arnaldo Bagnasco Corrado Stavi eccetera era l'epoca in cui andava l'informale e allora abbiamo stabilito avevamo 18 anni io ho stabilito che la cosa essenziale era l'essenzialismo e allora abbiamo fondato il movimento dell'essenzialismo noi cosa significa essenzialismo che quando hai detto quello che dovevi dire ti devi fermare perché è inutile sbrodolare altro la canzone in fondo ti costringe con la sua struttura a ripetere che so io oppure arrivare a una soluzione per cui a un certo punto ci deve essere una botta di alto di sostegno e poi allora primo da una parte mi rompeva le palle il fatto che i limiti non ci fossero più assolutamente perché sono stati tutti trasgrediti a degli imbecilli quindi purtroppo il limite deve essere trasgredito da un dirigente da uno da uno di cultura da uno che ha veramente un cervello come di comanda può essere Picasso non l'ultimo degli imbecilli invece purtroppo non ci sono più limiti perché tutti i limiti li hanno trasgrediti gli imbecilli quindi l'unica cosa da trasgredire sei te stesso la tua struttura la tua maniera di scrivere la tua maniera di fare e tenendo presente sempre l'essenzialismo quindi io scrivo se ho detto quello che devo dire in una strofa finisce lì è chiaro? molto e questo sarà un disco un disco quello che sarà non lo so che non sarà un disco con una canzone può esserci cento parole in una e una parola nell'altra nel senso che quando ho detto quello che dovevo dire quando basta quello che ho detto mi fermo e quindi sarà un disco che la gente darà testata nel muro perché non capirà un cacchio però vedremo vedremo perché in fondo c'è sempre la speranza che ci sia che ci sia anche anche una fondo di intelligenza della gente che tu hai il dovere di svegliare questo è in fondo lo scopo anche del poeta o dello scrittore o del pittore o di quello che cacchio è cioè ha il compito di svegliare quel po' di buono e per buono intendo intendo intelligenza intendo pensiero pensiero noi viviamo nell'epoca in cui i pensieri non ci sono più sono pensieri già confezionati che ognuno che ognuno usa come vuole usare lui invece anche un pensiero di merda che sia tuo e allora questa parte è quasi un obbligo quindi io sempre quando scrivo scrivo se ho un orizzonte quando io scrivo che vedo che l'orizzonte non c'è allora butto via perché è una cosa che non serve a niente non serve a nessuno neanche a me e allora quando io devo devo scrivere perché poi è sempre write music is like is off e allora quando sono in quelle condizioni lì se non c'è l'orizzonte non scrivo e quindi ogni volta ci deve essere l'orizzonte ci deve essere lo devo vedere l'orizzonte questo orizzonte poi ce lo ce lo trasmetti perché questo essenzialismo di cui hai parlato è molto bello perché c'è questa sintesi ma del pensiero e come dicevi tu un po' in effetti forse oggi il pensiero non dico che sia decaduto ma non lo so non si aiuta più i giovani a svilupparlo io non sono una giovanissima quindi però ti dico che quello che un po' a volte i giovani non è colpa loro se hanno un condizionamento tutti i giorni furioso feroce cioè noi facevamo meno fatica a liberarci dai dalle sovrastrutture dai condizionamenti eccetera che erano abbastanza insomma un po' anche quello che ha detto Giorgio no Giorgio Gaver dice no prima il nemico era fuori lo vedevi adesso ce l'hai dentro come fai a vederlo e aveva ragione ha ragione perché e questo è il problema tu se fai il corso Europa hai 8000 impulsi manifesti cioè tutto e lì viene fuori Popper no Popper cosa dice Popper dice più arriva una valanga di informazioni più si abbassa la soglia critica è un paradigma che è perfetto evidente poi no cioè tu come fai a controllare tutto quello che ti entra è quasi impossibile la televisione qualsiasi cosa e quindi come diceva l'artista l'artista avrebbe il dovere di credere ancora nell'orizzonte credere ancora nel fondo di pensiero di ogni essere umano in fondo io non canto per le masse io canto per tante solitudini perché il fatto di cantare per la massa non me ne frega niente io voglio che ognuno di loro mi ascolti non con altri dieci che lo costringono applaudire questo cazzo guarda quello che dici è vero però tu pur non appunto indirizzando il tuo pensiero alla massa tu sei arrivato per fortuna a questa massa di persone che hanno un pensiero che hanno una sensibilità che hanno un amore e sono curioso di vedere questa uscita ultima io credo che tutti quelli che capiscono diciamo l'artista devono avere un fondo di artista dentro perché se no non possono cioè è come se uno uno parla inglese se tu non sai l'inglese non puoi capirmi quindi anche il poeta parla ad altri poeti poeti che non sanno esprimersi ma poeti dentro perché se no come fanno a capire quindi in fondo è su questo che tu basi in fondo la tua speranza il tuo orizzonte è vero è vero anche che quando poi uno però come te da parte tutta l'esperienza il lavoro eccetera il carisma quando tu arrivi sul palco anche tu e il pianoforte cioè si sente perché la gente lo percepisce quel qualcosa in più chiamiamolo carisma chiamiamolo non lo so è un momento magico che si divide e che lo senti quando tu cominci a cantare le tue canzoni che sono state cantate dai più grandi cantanti da Mina insomma dai più grandi nomi però quando arriva la tua voce che appunto non ha mai detto né sorriso né urlatore però arriva Gino Paoli quello è un altro discorso quello che quello che hai la presenza sul palcoscenico è una cosa che uno o ce l'ha o non ce l'ha quindi è inutile questi che fingono di averla cioè che se la costruiscono perché poi il discorso è che noi noi vecchi noi vecchi eravamo quello che eravamo nessuno ci diceva comportati così perché così fai no oggi si costruisce un personaggio prima e poi lo si butta e beh ma quello lì tiene finché tiene perché è impossibile che riesca a fingere fino in fondo in così bene in modo che la gente ci creda cioè io oggi quando quando mi chiedono ti piace questo o non ti piace questo io divido soltanto in quelli veri e quelli falsi basta il resto non frega niente cioè io preferisco uno vero che sia stonato squadrato che faccia delle cagate orrende però che sia vero quelli che invece sono bravissimi e che sono finti come Giuda mi interessano proprio neanche un po' cioè questo è il discorso poi ci sono quelli che fingono talmente bene che che sono al di là di ogni immaginazione per esempio Lucio Lucio era uno era il più grande contamusse che io conosco il contaballe raccontava le balle a me su episodi che io avevo vissuto insieme a lui e lui diceva ma guarda che non è così no 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 vabbè era un contaballe meraviglioso perché perché lui si inventava la realtà se la reinventava come voleva lui era un immaginifico come come l'annunzio quindi era un personale straordinario avrebbe potuto fare qualsiasi cosa perché l'attore qualsiasi cosa perché aveva era era aveva talmente tanto talento che poteva fare qualsiasi cosa infatti ha fatto delle cagate orrende anche perché cioè però lui non li poteva fare come gli elfi che possono fare qualsiasi cosa lui lui era così abbiamo visto sul palco dell'Ariston come ospite nel festival di Claudio Baglioni che è stato un festival del successo un festival della grande musica è un festival come dicevi tu forse dove alla fine però Baglioni ha invitato i grandi i big si è sentito forse un po' di attacco perché hanno detto i giovani meno ma in realtà ha ragione lui perché poi forse alla fine quando vediamo i duetti dove Baglioni con la Pausini Baglioni con la Nannini Baglioni con Gino Paoli beh la pelle d'oca e l'emozione arriva veramente alta e si sente perché il pubblico dell'Ariston così in piedi e di share insomma tutto quello che magari ci interessa anche meno ma l'emozione arrivava anche attraverso la scatola del televisore uno spettacolo è stato ecco ma è facile proprio uno spettacolo cioè ha dato alla gente la soddisfazione di divertirsi di vedere artisti che di solito non vede eccetera ha fatto quello che doveva fare ha ritirato su le sorti di un festival che stava mostrando un po' forse la corda in generale gli ho detto il prossimo anno lo organizzo io e lo chiamo lui mi hai anticipato proprio la domanda che ti volevo fare no neanche se mi ammazzano no dai ma davvero non lo faresti mai ma neanche se mi ammazzano guarda io io dopo che io ho fatto il presidente della CIA per due anni e mezzo e mi hanno costretto a dimettermi perché ci sono troppe troppi interessi eccetera no ma cosa dimetterli io di cose voglio dire da dirigente da presidente manco se mi ammazzano e da direttore artistico ma direttore artistico non ha nessuna funzione a Sanremo che cosa vuoi fare se avesse se Baglioni avesse fatto con un direttore artistico invece di farlo da solo non riusciva mica a fare sta cosa ma neanche per idea io una volta ero con Adriano Aragazzini che stava mettendo su il festival di quel anno lì e ero in ufficio da lui che mi voleva convincere ad andare a Sanremo con lui Aragazzini è stato il mio autista il mio segretario tanti anni fa quindi approfittava di questa condizione amico eccetera per dirmi poi lui è matto come una capra mentre eravamo lì e lui stava organizzando il festival sono arrivate quattro telefonate di onorevoli ministri eccetera che peroravano la causa di uno dei cantanti che dovevano andare a Sanremo e devo dire che a uno l'ho mandato anche perché Adriano è matto quindi riesce a fare questa cosa quindi pensa quale sollecitazioni ci possono essere voglio dire cioè io sono andato a testimoniare per Adriano e mi ha detto Adriano cos'è per lei questa giudice ho detto è un amico ma allora lei pensa che sia un resto sì penso che sia un resto e allora com'è questa cosa guardi questa cosa di cui state parlando Adriano è l'ultimo che la fa di tutti quelli che l'ha fatta sempre sempre ah perché dice sempre ma lei no che prove che cacchio lo sanno tutti e lo so anch'io quindi insomma il prossimo festival di Sanremo non ti vedrà come direttore d'artistica non ti vedrà credo proprio di no cioè non mi vedrai più come presidente della CIA presidente di qualsiasi cosa l'unica cosa che forse accetterò qualcuno mi ha chiesto se voglio fare il presidente del Recco Spalanuoto forse quello lo faccio è di un'associazione culturale per giovani artisti saranno robaccia raccomandazioni eccetera perché se tu giochi bene giochi se no non giochi è l'unica cosa che effettivamente il nostro mestiere ha che di cui parlo orgogliosamente è che uno può avere tutte le raccomandazioni che vuole in questo mestiere se vai nei teatri le fai vuoti puoi avere raccomandazioni anche del presidente del del cioè del papa ma ma non c'è verso cioè tu sei quello che sei perché perché porti gente perché hai successo se no puoi avere tutte le raccomandazioni che vuoi io vorrei chiudere un po' chiedendoti anche una cosa che a me sta particolarmente a cuore tu continua a dipingere perché io quello che ho visto ho visto non l'essenzialismo ma ho dipinto sì ho dipinto cioè ho fatto uno sbaglio un giorno è venuto uno che voleva fare un libro con aveva fatto già diversi libri combattiato con una canzone e poi con un pittore noto un artista noto e io ho dato ho fatto lo sbaglio di dire no ma i disegni me li faccio io oddio poi mi sono messo qua adesso come cazzo faccio dopo tanti anni che non faccio niente l'ho fatto lo stesso mi sono inventato un'altra maniera di fare quelle cose lì e adesso mia moglie vuole a tutti i costi che ricomincia a dipingere allora ho preso tutto per farlo ma finora non sono riuscito ancora a partire prima o poi parto anche perché la mia donna che fa il giardino che fa la pittrice fa il giardino ma ha questa cosa che fa la pittrice e vuole a tutti i costi che gli faccia ritrasto quindi devo farlo per forza prima o poi mi toccherà anche perché vedo una tela là leggermente iniziata ma io ho visto diversi lavori tuoi quando sono venuta nella tua casa in Toscana e ne abbiamo parlato perché tu parlavi di essenzialismo e io parlo di esistenzialismo perché così ho letto un po' i tuoi lavori molto forti molto belli esistenzialismo cioè un po' esagerato come idea però guarda quel vedi quello là il disegno quello dalla parte di là quello lì Giacometti Giacometti è l'esempio di cosa in pittura o in disegno si può fare per andare dentro all'anima di una persona quando gli fai il ritratto ed è forse il più grosso maestro che ci sia e beh credo che dipingere cioè io facevo solo ritrati praticamente ritrati ho fatto anche tanti tanti paesaggi ma quelli per andare poi sul lungomare venderli sulla strada perché così almeno qualche soldo lo facevo e quindi ho fatto tante volte san fruttuoso sai che bellissima poi basta che fai un acquarello di sedia lo vendi subito subito io ho anche la gatta dipinta da te e invece facevo solo praticamente quasi tutti i ritratti e il ritratto è questo entrare nell'anima di quello che dipingi certamente hai parlato di anima e chiudiamo davvero non lo so vorrei che tu potessi lanciare un'idea un augurio un consiglio non lo so a questi giovani giovani leve di artisti che siano pittori che siano scultori che siano cantanti che cosa si potrebbe ancora riuscire a consigliare per poter diventare per poter diventare veramente un artista viverlo non ti dico l'avere successo questa è una cosa che come dicevi tu c'è anche la fortuna e ok ma che cosa poter farlo semplicemente questo cioè non è l'artista ha bisogno di fare l'artista ha bisogno di esprimersi ha bisogno di dipingere o di cantare di suonare di quello che cacchio è ma ha bisogno di quello poi il resto non ha nessuna importanza il resto il successo può arrivare può non arrivare tutta la vita però la soddisfazione la realizzazione di te stesso la trovi attraverso il fare quello che sai fare e nessuno ti può dire che sei bravo più di quello che pensi tu di essere cioè oggi la gente compresi i miei figli tutti valgono in quanto sono in quanto in quanto il consenso che hanno cioè se uno ti dice che sei bravo allora sei bravo io no un artista non è così l'artista è bravo per quanto sa di essere bravo punto non ha nessuna importanza se sei accettato o no se ti dicono che sei bravo o no se uno mi dice che sono bravo non mi aumenta per niente come se uno mi dice sei una merda non mi diminuisce per niente quello che sono sono punto e quelli che ti dicono come si fa a fare l'artista fallo fallo l'artista basta e viverci per vivere vivere io quando sono andato via di casa pensavo sono andato prima a dormire alla stazione mi hanno arrestato due volte poi sono andato a dormire all'hotel dei poveri vabbè o seguire crederci ma non è tu non puoi mica la tua vita è fare quello che sai fare quello che hai bisogno di fare questa è la tua vita poi se tu ti adatti e invece dai il tuo destino in mano a che so io a qualcuno che ti dà uno stipendio questo è un altro discorso ma l'artista non lo può fare libero non lo può fare la vera è libertà no 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 guarda quando mi sono sposato la prima volta mia moglie ho detto guarda io faccio l'artista quindi può succedere qualsiasi cosa ma io faccio l'artista quindi se pensi di sposarmi perché prima o poi mi adatterò non mi adatterò quindi pensaci bene infatti anche Paola è stato bellissimo è stato bellissimo Paola sa parlo spesso con Paola che è tua moglie adesso la situazione non è come allora però sa di stare con un grande artista questo sì anche quanto è provvisore un grande artista quindi sempre non c'è mai la sicurezza no no la provvisorietà è ma noi abbiamo vissuto una vita talmente noi abbiamo avuto un imprinting iniziale tutta la mia generazione soprattutto la mia generazione che fa l'artista che ha fatto l'artista o cosa del genere l'imprinting è stato cinque anni di guerra e quello che era la confidenza con la morte con con la provvisorietà con quello che non sai cosa succederà domani e questa provvisorietà diventa la tua linea di vita non c'è niente da fare però non è che uno lo decide è la situazione la casualità che ha che ti ha portato in questa in questo mood in questa maniera di pensare io sono provvisorio non c'è un cacchio da fare sembra il titolo di una canzone io sono provvisorio beh diamo un appuntamento guarda una delle canzoni che sto scrivendo si chiama si dice sarà per sempre finché dura questa bella avventura che è appunto io sono provvisorio praticamente il prossimo appuntamento Gino dove ti possiamo venire ad ascoltare visto che a Sanremo non dunque primo io non so quanti soldi prendo non so non so perché lo fa Aldo poi quelli che prende li da mia moglie non li vedo mai quindi già comincia così poi i miei impegni o li sa mia moglie o li sa Aldo io non so assolutamente domani magari mi dicono guarda che dopo domani dovrei andare e io dico vabbè vado ho capito cerchiamo su internet dove poterti trovare dove poterti vedere giuro che non lo so non ho più vaga idea dovrei stare tranquillo perché appunto devo finire questo lavoro che ho fatto e ho già fatto la prima stesura con con Danilo adesso bisogna lavorarci sopra e farlo diventare qualcosa unitario però non è una cosa facile no anche perché restiamo in attesa di questo essenzialismo che mi sembra una parola bellissima per chiudere giusto sono interrotte che mi sembra Grazie a tutti.